Via il polio 74, Reggio Calabria, telefono 0965 57008 La regina calcio sceglie la straordinaria ospitalità del Reggio Hotel per i propri motivi, sceglilo anche tu per i tuoi eventi importanti Reggio Hotel, lungomare di Catuna, gli speciali del tuo matrimonio Ciao Telecom, provvedere internazionale di servizi per la telefonia mobile fissa Top sponsor di Reggina Calcio Augura a tutti un buon campionato e forza Reggina Stocco è stocco